Ben subito, siamo stati fortunati a segnare all'ultimo minuto del primo tempo Vogliamo dire una cosa? Prego, prego, prego Puoi dire qualcosa? No Tifusi Napoli o Granate innanzitutto? Granate Ma che domanda è? Se siamo a Staleno possiamo solo dimostrare Staleno? No, siamo mischiati, perdona No, non siamo mischiati A Staleno si fifa a Staleno Poi se gioca a Juve, Inter, Milano Ecco, per esempio adesso sta mostrando sotto la giacca Questo perché non l'avevi notato? No A Staleno si fifa a Staleno Se gioca in Napoli contro le squadre del Nord Va bene simpatizzare leggermente per il Napoli Però a Staleno si tifa solo a Staleno E' giusto che ognuno tifi la propria squadra Ci mancherebbe altro Eh, io quello dico A Staleno c'è la Staleno di Italia La Stifa a Staleno di Cavano c'era Sì, l'agro nocerino sarnese Quelle cose là, così Poi è chiaro che il Sud deve vincere sempre Ma infatti noi dicevamo proprio questo Esatto, esatto Cioè tifare per le squadre della Campania e del Sud in generale Sì, per il Lecce, per il Bari, per qualsiasi Poi magari i vaglioni salini Avevo giocato bene anche noi Sì, sì Infatti noi dicevamo anche questo Proprio speriamo nella salvezza della Staleno di Tana Così come abbiamo tifato per il Benevento Quando in passato insomma Va benissimo, va benissimo Eh, storia è l'inizio che è stato strano, capito? Tifuso della Sedana o del Napoli? No, è perché No, 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 è perché i tifusi del Napoli Molti non hanno sciarpe, non hanno giustamente Per evitare magari un po' di problemi Un po' di frentendimenti E quindi per questo Ah, per questo motivo No, no, noi tifiamo Granata a casa No, ma ci mancherebbe No, noi abbiamo ascoltato tantissimi tifusi Granata Viva Maradona, viva Pisano Va benissimo così Ma infatti, assolutamente Un'unica grande famiglia quella del Sud Assolutamente Vi auguro un buon rientro Di Michele, oi giù Però Napoli, Napoli Viva Degli Orussi Va bene, Degli Orussi Io personalmente ho tifato il Lecce di Quadrato e Muriel Ho tifato il Benevento Quando sono le squadre del Sud Mi fa Forza Spalletti Assolutamente, ragazzi Pure perché se Se ci facciamo la guerra pure tra di noi Siamo rovinati Siamo rovinati L'approccio è stato un pochino Ma no, capito Comunque abbiamo perso Non è che posso stare No, no, no Ci mancherbbe altro Ma ci mancherbbe altro Sì, sì Sì, altre partite le ha fatte Cioè, cinque gol alla Juve No, no, no Ma infatti, ma infatti Eh, no, però Non siamo Va bene Poi ci siamo persi il secondo gol Perché stiamo piando la birra Hai capito? Scudetto Napoli Salvezza Salernitana Chiudiamo così Tutti d'accordo? Tutta la vita Salernitana è la Coppa UEFA Magari, magari Ci sta ancora la Coppa UEFA? L'Europa League No, la Coppa UEFA è più bella Torniamo a noi Torniamo a noi C'è stato questo fraintendimento Però alla fine ci siamo capiti Ciao a tutti Ciao a tutti